Eccolo! Per fissare i momenti più belli del Natale, Pandoro e Panettone Motta insieme regalano Dai, scatta! La fantastica Fuji Quick Snap! E con un panettone in più Lì è buio, usa questa! La Fuji Quick Snap col flash Basta la cartolina che trovi nelle confezioni Non è un concorso È un regalo sicuro per tutti! Fotografa il tuo Natale con Fuji Quick Snap È un regalo Motta Grazie a tutti!